Nella nostra farmacia si possono eseguire autoanalisi mediante un moderno apparecchio che consente di eliminare i tempi d'attesa, avere risultato in tempo immediato e riproducibile in quanto viene utilizzata una chimica liquida simile al laboratorio di analisi degli ospedali. Tramite questa apparecchiatura possiamo misurare colesterolo totale, colesterolo buono, colesterolo cattivo, glicemia, trigliceridi, emoglobina, emoglobina glicata, eritrociti, acido urico, transaminasi e tempo di protrombina. Effettuiamo inoltre, sempre attraverso il prelievo di sangue capillare, un esame per quanto riguarda le intolleranze alimentari, chiamato Recoller Test.